Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno Sabato 13 aprile santa Ida Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo! O Dio che nei misteri pasquali hai aperto ai tuoi fedeli la porta della misericordia, volgi il tuo sguardo su di noi e abbi pietà, perché seguendo la via della tua volontà, per tua grazia non ci allontaniamo mai dal sentiero della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te o Signore Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore Lode a te o Cristo Mentre il mare era agitato e soffiava un forte vento, Gesù cammina sulle acque del mare per raggiungere i discepoli che si trovano su una barchetta. Il mare agitato non è un'eccezione, anzi è la normalità. Perché la vita è fatta così, non ci lascia mai in pace, e puntualmente salta fuori qualcosa che guasta i nostri progetti o che rende tutto più complicato e pericoloso. L'uomo lavora e si affitica per cercare un po' di stabilità e di serenità, ma generalmente risolta un problema e ne salta fuori un altro. A volte sento alcune persone che mi dicono che non vanno a messa perché hanno troppi impegni o che nei momenti più difficili non trovano il tempo per pregare. Naturalmente capisco quello che vogliono dire. A volte è difficile ritagliare il tempo per le questioni spirituali quando ci sono delle urgenze immateriali da risolvere, e in alcuni casi è giusto così. Se per esempio vedi uno che sta affogando, non dire Padre nostro, ma lanciagli subito il salvagente. Ma in altri casi commettiamo un grande errore. Infatti a volte la cosa più urgente è scoprire la presenza di Gesù accanto a noi, per riuscire ad uscire dal mare in tempesta. Molte volte ci lasciamo prendere dal panico, dall'ansia, e non ci affidiamo a Gesù, e rincorriamo i problemi senza riuscire a risolverli, e corriamo perché sentiamo che il tempo ci sfugge come sabbia tra le dita, mentre sarebbe molto più saggio fermarci e pregare. Non aspettare di avere risolto tutti i tuoi problemi per rivolgerti a Gesù, ma lasciati raggiungere da lui mentre il mare è in tempesta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo, voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo, e ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te! Beppiii!